Il mio nome è Cosimo Gheriche, sono titolare dell'azienda agricola Fattoria di Lignana che si trova a Panzano-Inchianti. La cosa che più mi dà soddisfazione è quando le persone assaggiano il mio vino e sono felici di berlo. Tutte le volte che ho una mia bottiglia in mano ho un senso di responsabilità. Questo lo sento nei confronti di chi mi ha lasciato l'azienda, di chi lavora in azienda e di chi vende il mio vino. Le idee proprie che io continuo a sostenere è di mantenere il più possibile il paesaggio come l'abbiamo ricevuto. Cercare di non sconvolgere, di non imporre la propria personalità e il proprio gusto perché tanto quello che ci contraddistingue è la classicità e quello che è stato e quello che sarà che deve rispecchiare a quello che è stato.